Questo è il tutorial con le procedure di installazione e accesso al canale di Teamspeak di Italiani Volanti. Per scaricarlo andate sul sito di italianivolanti.it e premete Teamspeak dal menu. Per scaricare premete questo bottone e andrete sul sito di Teamspeak dove potrete scegliere quale versione scaricare. Nel mio caso Windows quindi a 64 bit. Premo su download e una volta scaricato apritelo. Questo è il setup quindi l'installazione. Una volta aperto premete su next. Scorrete tutte le informative della licenza. Accettate i termini della licenza. e fate next. E installatelo. Ok una volta installato lasciate così com'è quindi per farlo aprire. Premete su finish. Torniamo intanto sul sito di Italiani Volanti. Accettiamo. Ok. Ora io continuerò senza un login su Teamspeak perché non ce n'è bisogno. Per il primo accesso inserite il vostro id quindi il vostro iv. Nel mio caso è iv0477 e scrivete il vostro nickname o il vostro nome. Ok. Ora andiamo su connessioni. Connections. E dove eravamo andati prima sulla pagina di Teamspeak c'è scritto l'indirizzo server del Teamspeak. che sarebbe iv.itranivolanti.it Lo inseriamo su server address e su nickname inseriamo di nuovo il nostro id di Italiani Volanti e il nickname. Vi ringrazio per la visione e alla prossima. Vi ringrazio per la visione.